bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi come potete vedere un video commentary, qualcosa di nuovo vi invito a lasciare un like se vi piace in questa prima fase mi sto scaldando gli avambracci mi sto caricando, sono emotivamente al massimo spinto per dare il meglio di me abbiamo visto ovviamente Luschi vuole fare una qualche penna l'ho fatta anch'io prima ci siamo scaldati e come potete vedere siamo partiti subito in quinta adesso sono bello carico fresco, non ero particolarmente stanco avevo tanta ma tanta ma tanta voglia di girare in moto difatti ero pronto per fare anche del bel estremo ero pronto per darci dentro qua io sapevo già la strada sono partito, non mi sono fregato di niente via, moto stretta tra le gambe peso tutto indietro e si va giù del gas allora questa zona in cui eravamo è chiamata la cresta è un bel percorsino perché come potete vedere a destra e a sinistra ci sono strappiombi belli pesi e c'è solo un sentierino più o meno che bisogna mantenere dove ci sono dei bei pietroni abbastanza grossi è divertente e come potete vedere cerco di tenere sempre il peso all'indietro ecco in questo caso ovviamente sono seduto per fare queste fossettine qua mentre invece qui sono in piedi tenendo il peso all'indietro e cercando di aiutarmi a salire e dandomi delle spinte con le gambe quella parte che ho appena fatto era la cresta dove c'era il sassone qui non mi fermo neanche per vedere se c'è cuschi voi perché tanto so che essendo il boss mi ha accattato al culetto e invece qua mi fermo arriva ecco lo score ok niente allora eravamo tutti e due carichi nessuno dei due era affaticato e ricontinuiamo il giro abbiamo deciso tra l'altro di andare in un anello non di fare un giro come il solito magari di più tempo con più tappe eccetera eccetera ma abbiamo deciso di stare in un anello e sfondarci in quell'anello il più possibile così per vedere se riuscivamo a aumentare diciamo la nostra resistenza un pochino il fiato e vedere quanti giri di circuito riuscivamo a fare tra l'altro c'era un terreno che non era al top e neanche io come gomme ovviamente sono ben dotato cioè ovviamente no dovrei avere delle ottime gomme però invece ce le ho abbastanza usate e questa cosa non è buona con il tempo che c'era tra l'altro stava spiovigginando come potete vedere anche la GoPro è un pochino sporca ecco questa zona a questo punto mi piace tantissimo perché ci sono proprio tanti massoni discesa abbastanza ripida neanche troppo ma proprio proprio bello mi raccomando ragazzi tenete il peso all'indietro cercate di lasciare l'anteriore fluttuante e tenete ben salda la presa ovviamente stringete sempre con le gambe la vostra moto perché siete voi che dovete decidere dove questa deve andare questo canale mi fa schia bene successivamente passiamo ad un'altra parte che sarebbe questa parte di nuovo in salita un bel canaletto che prima avete visto che l'ho fatto in discesa e qui mi sono fermato perché io avevo bisogno di calare marcia e di aumentare ovviamente i giri della moto ma cercavo di buttare giù il pedalino del cambio e questo non scendeva allora pensavo che avessi rotto la mollettina presente all'interno del cambio invece ero semplicemente io un babbo qua mi ero gasato troppo come potete vedere sto spingendo davvero tanto la moto penso che fossi un quarto al massimo una cosa così bello bello e poi questa parte invece è una parte abbastanza tecnica dove ci sono appunto tutti questi sassoni abbastanza scorrevole perché come potete vedere non vado piano diciamo però era abbastanza impegnativo qua sono sempre in piedi e sempre ad affrontare diciamo con abbastanza testa le parti tecniche ecco qui con il bagnato i sassi e con le gomme che avevo vi giuro che la mia aderenza era praticamente zero cioè non riuscivo ad andare avanti davo gas con le marce ovviamente basse e la moto guardate guardate mi slittava la posteriore andava dove voleva lui e ovviamente chi l'ha approfittata è l'uskibor che mi ha passato molto agilmente bravo uskibor e niente torniamo di nuovo sulla cresta facendola all'indietro così potete vedere anche quanto pende che non è male e i massoni che ci sono sono anche di dimensioni abbastanza alte qua sempre nel canale a dare il massimo tutto quello che potevo dare insomma lo davo e quindi è successo una cosa di notte mi ha messo anche il rallenti mi si è completamente girato diciamo il posteriore e mi ha fatto cadere lui cioè io non ho fatto niente sentite la mia reazione nooo non ci credo bene e ovviamente dopo essermela presa inutilmente con la moto come se fosse niente di questa cosa riguardando il video mi meraviglio salgo sulla moto e riparto ed è così che che bisogna fare secondo me non è per vantarmela ma ragazzi è dalle cadute che davvero si impara a governare la moto io mi sto spronando a cadere ma semplicemente vi voglio dire che anche queste sono utili in un futuro per capire come è l'enduro e come bisogna approcciarsi ecco sempre con attenzione e quindi questo è il risultato bella è la plastica così nuovo look ciao 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 Grazie.